Ciao a tutti, eccoci qua per il video dei pronostici delle Coppe Europee. Tornano le Coppe Europee, la Champions, la Conference, l'Europa League. Speriamo in un colpaccio italiano che vincano tutte, tranne uno, che si sfidano tra di loro. Andremo a vedere un po' cosa combineranno Napoli e Milan in questa sfida che si preannuncia aperta. Si preannuncia aperta, una partita che non si sa bene come possa finire, perché sulla carta il Napoli doveva vincere facile, però già all'incontro di campionato con quel 4-0. Poi comunque Napoli che con l'assenza di Ozyman fa un po' più fatica, non lo so, a Milano con un Milan che comunque se la può giocare perché è più aperta e pronta a queste partite. Vedremo, vedremo. Sarà una partita veramente interessante che andremo appunto a analizzare tra poco insieme a tutte le altre di Europa League, di Champions League e di Conference League. Come sempre vi ricordo il gioco. Il gioco consiste nel commentare anche voi, dire i vostri pronostici di tutte e tre le competizioni, di tutte le partite. Vediamo chi ne prende di più. È un giochino semplice, gratis, che non vi costa nulla. Non vi verrò a dire cosa ho fatto l'altra volta perché non me lo ricordo più. È passato troppo e poi comunque ormai sono partite fini a se stesse, no? L'ultima volta com'è andata, quindi avevo preso dei gol comunque in Europa League, in Conference League, adesso non mi ricordo neanche più. Quindi 1x2, doppie, cerchiamo di stare al massimo nelle tre per competizione e poi mi raccomando si può giocare anche gol. Quindi come volete voi, come preferite voi, decidete appunto in base a ciò che più vi aggrada. Andiamo appunto con le prime che sono quelle di Champions League, poi andiamo con l'Europa League e poi andiamo appunto con la Conference, ok? Ovviamente le prime partite che ci sono stasera sono Benfica-Inter e Manchester City-Bayern. Non vorrei far arrabbiare gli interisti, però visto il momento dell'Inter, visto il Benfica in casa, visto che comunque il Benfica è una squadra tosta e quest'anno il Champions l'ha dimostrato, è una squadra difficile da affrontare. Sarà sicuramente una bella partita che non vedo l'ora di portarvi il post partita poi stasera. Benfica-Inter ragazzi, mi dispiace per gli interisti, ma io vedo un 1x, un 1x e poi dico l'x per stare più vicini agli interisti, perché mi aspetto un 1 e ahimè un inter che faccia veramente veramente fatica. Però proviamo un 1x, vediamo un po' come va. Manchester City-Bayern-Monaco, ragazzi è una partita da gol. Questa è una partita da gol, se finisce 0-0 è una delusione atomica, però è una partita da gol. Penso che sia la cosa più facile e più probabile, che giocherete un po' tutti, quindi direi gol. Milan-Napoli, ragazzi io mi giocherei l'x2. Mi giocherei l'x2, però è una partita da tripla, è una partita che non giocherei mai perché non so come possa finire. Potrebbe uscire anche gol anche qui, obiettivamente, però ci sono due ottimi portieri, quindi non è così scontato. L'assenza di Azimane potrebbe pesare, però non lo so. Secondo me Napoli quando sente quella canzoncina si rillumina e può strappare quantomeno un pareggio a Milano, che secondo me è il risultato più probabile oggi, il pareggio. Poi sicuramente scasserò. Vedremo poi nei pronostici come andrà, non so perché, c'ho un prurito qua a sto orecchio oggi, non ho idea di cosa sia. Real Madrid-Celsi, ragazzi, non ci penso neanche più di tanto, mi aspetto un 1, una vittoria abbastanza easy del Real Madrid, finirà sicuramente 2, quindi staremo a vedere. Andiamo con... perché ho la conference prima dell'Europa League? Devo capire perché ho la conference prima dell'Europa League? Non si sa. Andiamo con l'Europa League, poi vi dico la conference obiettivamente, che comunque sono entrambe giovedì. Andiamo appunto con Feyenoord-Roma. Ecco, Feyenoord-Roma, ragazzi, è un'altra partita equilibrata, ma sulla carta se la Roma fa la Roma è più forte del Feyenoord. Diciamocelo, diciamocelo. Quindi per me Feyenoord-Roma è una partita da X2, sperando che non succeda nulla fuori dallo stadio, sapete benissimo. Tra l'altro non ho letto neanche se i romanisti possono andare, perché so che gli olandesi non possono venire qua. Non so se i romanisti possono andare, ho questo dubbio in merito, rispondetemi nei commenti se voi lo sapete, perché non ho letto nulla, sono sincero. Quindi comunque Feyenoord-Roma X2, parliamo di campo, non parliamo di cose extra. Juve-Sporting è una partita per me da 1-2. Secondo me non è una partita che può finire X. Vi dico questo. Per me o la Juve trova il massimo dell'orgoglio e la prova a vincere, o altrimenti può perdere. Perché comunque è una squadra portoghese, è una squadra ostica allo Sporting, che può rompere un po' le palline. E quindi, non lo so, è una partita che mi può piacere, sia 1-2 che gol. Sono un po' indeciso, sono un po' indeciso tra 1-2 e gol. Se vogliamo provarcela, facciamo gol, così siamo più sereni. Ci giochiamo gol, ho cambiato idea, giochiamo gol invece di 1-2. Andiamo easy, andiamo tranquilli, giochiamoci gol su Juve-Sporting, così che vinca, chi vinca. Vediamo come va a finire. Leverkusen, Royal Saint-Giluot, Saint-Giluot, non so che vi piace come ve lo dico, 1-1, direi 1. Dai, la squadra tedesca, secondo me dovrebbe vincere abbastanza facilmente con la squadra belga, nonostante sia una squadra un po' rognosina, è una squadra che comunque sa il fatto suo, quindi, però, secondo me, è un 1. United-Siviglia, ragazzi, questa è un'altra partita che può finire gol, è un'altra sfida che teoricamente dovrebbe vincere lo United, però anche qui mi gioco gol. Stavolta mi gioco un sacco di gol, perché mi aspetto un sacco di gol, quindi gol vuol dire che segnano entrambe le squadre, quindi United-Siviglia, secondo me, possono segnare tranquillamente entrambe le squadre. Andiamo con la conference che ci regala un... Stavo dicendo Alkmar, Lazio, magari, purtroppo la Lazio se l'è giocata, purtroppo per fortuna, perché poi in campionato si è ripresa dopo quella sconfitta, quindi andiamo a vedere... Cioè, nel senso, uscendo dall'Europa, Lazio in campionato non si ferma più. Gent-West Ham. Gent-West Ham è una partita aperta, è una partita aperta perché comunque gli inglesi stanno facendo fatica in Premier, scusate se il mio cane fa versi strani, direi X2 comunque, X2, do fiducia agli inglesi, che almeno un pareggino in Belgio, spero che il cane smetta di leccare e far casino, mi giocherei un X2 che, secondo me, ci può stare. Anderlecht-Alkmar, vi dirò che è un altro partito che mi piace gol, è un altro partito che mi piace gol, ragazzi, quindi giochiamoci gol in Anderlecht-Alkmar. Basile-Nissa, vi faccio ridere, è un altro partito che mi piace gol, e quindi mi giocherei gol anche in Basilea-Nissa, e quindi gol anche in Basilea-Nissa, ragazzi, stasettimana mi gioco un sacco di gol, non uscirà mezzo, fino a 0-0, tipo, no? Staremo a vedere, mi raccomando, nei commenti, aspetti vostri. L'EC Fiorentina, invece, ragazzi, mi aspetto una vittoria della Viola, una Viola che è superiore alla squadra polacca, una Viola che in Europa fa sfracelli, e non solo, anche in campionato, peccato la battuta del resto, per i Viola contro la Fiorentina, e per fortuna per noi atalantini, che invece c'è stata, però, è una Viola che secondo me, in Polonia, può fare bottino pieno. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per aver visto questo video, giocate con me nei commenti, lasciate like, rispondo a tutti, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, siamo vicini ai 2000, cerchiamo di arrivare al 2000, sarebbe un traguardo che mi farebbe veramente piacere, se vi va, ditemi anche come siete andati l'altra volta, perché io non l'ho detto, ma se voi lo volete dire, lo potete dire, altrimenti passiamo oltre, passiamo oltre, perché nelle Coppe Europee possiamo passare oltre, lo diciamo solo, andate e ritorno magari, che sono le stesse partite. Ragazzi, poi per i pronostici ci rivediamo giovedì, venerdì, appunto, Serie A e Serie B, andatevi a vedere i recap di Serie A e Serie B, sono ripetitivi, lo so che ho portato uno ieri sera e uno l'altra sera, quindi vi invito ad andarli a vedere, perché sono comunque carini e video, anche mi piace sapere cosa ne pensate voi nei commenti, per discuterne insieme. Vi abbraccio di cuore ai tifosi di tutte le squadre, mi raccomando, in bocca al lupo alle italiane, e ci vediamo stasera per il post partita di Benfica-Inter. Un abbraccio, e vostro ammonte, alla prossima. Grazie a tutti i nostri spettatori,